Ora puoi riposarti e finisci questa stagione comunque con un podio di specialità, con tantissimi alti e devi portarti tutto il positivo per la prossima e stai continuando a crescere. Sì, sono molto molto contenta di come sono comunque riuscita a finire questa stagione. È stato un periodo molto complicato quest'ultimo periodo, riuscire più che altro a essere presente con la testa in quello che stavo facendo e quindi sono felicissima di aver finito comunque terza in gigante perché comunque per tutto il resto sono molto contenta della mia stagione e di come è andato tutto l'anno. Grazie mille per tutta la stagione e per tutte le emozioni. Buon riposo. Grazie mille. Grazie mille.